Ciao, sono Luca di Mr. Calgett, ancora una volta a Berlino per IFA 2017. Sono pronto a mostrarvi uno dei prodotti più belli mostrati in questi giorni in apertura di questo importante evento dedicato all'elettronica di consumo. Ho con me LG V30. Ecco dunque il nuovo LG V30 in tutto il suo splendore. Uno spessore minimale, materiale davvero bellissimo anche al tatto, una sensazione di leggerezza notevole. Doppia fotocamera sulla parte posteriore, il sensore di impronte digitali con il pulsante d'accensione sempre sulla parte posteriore e il marchio che vedete qui dietro è quello di B&O Play perché poi torneremo a parlare di audio per quanto riguarda questo nuovo prodotto. Non solo, perché ci sono altre caratteristiche molto interessanti a partire dal Full Vision Display che vedete con una diagonale addirittura di 6 pollici con la proporzione 18-9. Andando ad aprire il sistema operativo, vedete che vado immediatamente a pescare all'interno del telefono, ci sono molte novità interessanti. Tra questa attiva immediatamente quella che è la Floating Bar. Floating Bar che vi permette di avere collegamenti, acquisizione della schermata, contatti rapidi. Attiviamo tutto così avremo modo e poi il lettore musicale. Questa Floating Bar in pratica sostituisce il doppio schermo che era una delle caratteristiche tipiche dell'LG V10 e dell'LG V20 che abbiamo visto in passato. Ma come funziona esattamente? Quando uscite dalla schermata principale lo vedete in questo punto, vedete avete questo piccolo bottoncino. Una volta attivato il bottoncino avete la spiegazione di come funziona. Ve lo rimostro. In pratica appare questo bottone, vedete con il movimento potete passare tra le diverse schermate. Sono quelle dell'attivazione delle vostre applicazioni preferite, dei comandi di acquisizione dello schermo, i vostri contatti, oppure il riproduttore multimediale che potete governare in questo modo. Torno un attimo nelle impostazioni, chiudendo esattamente questo punto, per mostrarvi una cosa importante. Andando cioè nei collegamenti potete utilizzare qualunque tipo di applicazione. Potete cioè assegnare a questa floating bar, chiamiamola così, qualunque applicazione voi abbiate installato sul telefono e non solo le applicazioni di sistema. C'è da dire tra l'altro che con l'Active Display acceso, vedete questa floating bar, questi comandi come se fosse il secondary display, funzionano anche a display spento, vedete, passando con il dito facendo uno swipe direttamente sul display. Allora, torniamo però a vedere il telefono da vicino. Abbiamo detto display di grandi dimensioni, all'interno Snapdragon 835, 4 giga di RAM. Vi ricordo tra l'altro che arriveranno entrambi le versioni per quanto riguarda la memoria interna, sia quella da 64 giga che quella da 128 in Italia. Il prezzo è ancora da stabilire, lo scopriremo nelle prossime settimane. Non vi aspettate però un prezzo morbido per questo prodotto che avrà un posizionamento che viene definito premium, il che vuol dire un prezzo sicuramente piuttosto alto. Fotocamera. Ci sono diversi elementi importanti per la fotocamera. Intanto potete scegliere ad esempio di scattare fotografia anche in 18 noni, cosa che mi piace molto. Ma quello che bisogna andare a sottolineare sono le modalità di ripresa che vedete a disposizione in qualunque momento. Tra le modalità di ripresa c'è anche questa modalità cine video. Ci sono tutte le spiegazioni del caso perché questo telefono è stato essenzialmente resettato proprio di recente. Questo vuol dire che quando voi girate un video avete questi effetti cinematografici che potete utilizzare per la vostra ripresa. Una volta che avete scelto l'effetto che più vi aggrada potete cominciare la registrazione del video. Vedete anche questo point zoom. Questa è una cosa importante. Allora vediamo di inquadrare le scarpe di questo signore davanti a noi. Point zoom, se io inquadro le scarpe e utilizzo questo slide guardate come la camera va a inquadrare il dettaglio che io ho scelto. È sicuramente un effetto molto carino, magari insomma non sarà di quelli che userete tutti i giorni, però esprime il potenziale di questa fotocamera. A proposito della fotocamera, due sensori, uno da 16 megapixel con le lenti in vetro, crystal clear, con un'apertura focale 1.6. È la prima volta che c'è una focale di questo genere su una fotocamera di smartphone. C'è poi la fotocamera da 13 megapixel invece con il grand'angolo. Su questo bisogna sottolineare, torniamo nella parte frontale, ve lo mostro anche da vicino, bisogna sottolineare che la fotocamera ha essenzialmente, no scusate ho sbagliato la modalità di ripresa, ecco andiamo in modalità automatica. La fotocamera per la prima volta tra l'altro ha una riduzione di un ulteriore 30% delle dettaglie. Vedete una riduzione ulteriore del 30% della distorsione. Vediamo invece la selezione, come già conoscevamo sul G6 della visione grand'angolare oppure della visione normale. Con la visione grand'angolare avete una, come detto, riduzione importante della distorsione per evitare il cosiddetto effetto barile. C'è un altro dettaglio importante, quello sulla fotocamera frontale che è da 8 megapixel, ovvero il fatto che ci sia la possibilità di avere un angolo di apertura molto ampio per la vostra ripresa. Voglio segnalarvi un altro dettaglio di cui vi parlavo prima, c'è questo marchio B&O Play che vedete qui nella parte posteriore. È perché voi avete un suono Hi-Fi Quad DAC, quindi con l'uscita in high resolution audio e potete anche utilizzare i preset audio che sono stati realizzati proprio da B&O Play per LG. Insomma, è un prodotto veramente completo, batteria 3300 mAh, voglio farvi vedere sempre il dettaglio di questa floating bar. Dicevo, batteria da 3300 mAh con ricarica super rapida, con ricarica wireless. I software, essenzialmente, vedete, richiama quello di LG G6, non ci sono grandissime differenze per quanto riguarda l'aspetto. Tutto sommato, dal punto di vista grafico, siamo a quel livello, quindi qualcosa che abbiamo conosciuto e che conosciamo assolutamente molto bene. Il prezzo, abbiamo già detto più volte, non è ancora stato annunciato, sarà sicuramente un prezzo importante, però non vi nascondo che questo è un oggetto davvero molto molto bello. Sicuramente uno dei migliori in assoluto presenti sul mercato. Bisogna dire che questa volta LG, anche dal punto di vista del design dei materiali, ha fatto davvero un ottimo lavoro. LG V30, aspettiamolo dunque anche in Italia. LG V30, aspettiamolo dunque anche in Italia. Grazie per la visione!